Secondo lei, se posso permettermi di chiedere... Dai, Federico, come ti permetti di chiedere? Chi sono gli artisti più seri, quelli che attualmente cercano di portare avanti un discorso profondo e con un suo fondamento dell'arte? No, no, in generale. Oggi va molto la trans-avanguardia, non so se sono dei neofigurativi, ma lavorano soprattutto, perlomeno il più bravo lavora in America. Poi abbiamo un certo Cucchi, che è marchigiano, nel Morro d'Alba, in provincia di Ancuna, e sono qua di richieste in tutto il mondo. Io mi ricordo di quando è nata sta trans-avanguardia, perché frequentavo Modena, dove la trans-avanguardia ha preso piede e la gente, come sempre, rideva, perché non aveva capito. Siccome era abituato all'astratto, all'astratto, ma il mondo va avanti, non va caritroso. Ecco.